salve buonasera a tutti grazie di essere lo sapevo che una donna doveva sempre dire qualcosa mentre parlavo io buonasera a tutti sapete come stasera visto l'anteprima tanto buona domenica sera a tutti perché nei momenti in cui mandate l'onda sarà domenica con me come avete visto c'è la criminologa Giulia Colla voi non la conoscete ma io ormai tanto che per una vaga promessa che feci qualche anno fa purtroppo non per colpa mia dovevamo girare un film insieme ancora io però non ho ancora perso le speranze e speriamo di poterlo fare bene Giulia Colla è una criminologa ormai da tempo credo non so da quanto tempo sia criminologa ma lo è tre anni ecco so anche dove ha studiato poi dirà tutto lei e io l'ho invitata perché come sapete va di molto in voga adesso parlare di perché spesso è ancora diventa una moda parlare del caso di io parlo del caso giallo di trieste di Liliana Resinovic e ho chiesto a lei se avesse avuto piacere quando è venuta al convegno sul mostro di Firenze per inciso i video uscirà tra poco e tutte che mi scrivete quando uscirà lo vedrete vi manderò il link e io chiedo se voleva parlare di Liliana lei ha accettato quindi gli ho dato un po' di tempo per prepararsi credo sia giunto il momento di farla parlare perché avete visto mi ha interrotto di non iniziare a capire tale e lei mi ha subito interrotto bene bene Giulia ti lascio il microfono vai allora sì dunque sono sono specializzata tre anni fa all'istituto mem di Modena in criminologia quindi sono un esperto ehm che può ehm diciamo ehm essere incaricato dal tribunale come CTU per eventuali perizie eh ho fatto una tesi eh con in cui ho spiegato il ruolo del criminalista quindi di chi svolge il soprallogo tecnico sulla scena del crimine e il criminologo quindi facendo una comparazione tra l'attività dell'uno e l'attività dell'altro evidenziando quali sono eh gli elementi che il criminalista quindi il tecnico diciamo può rinvenire sulla scena e come il criminologo li può interpretare quindi ho fatto un po' questo questo tipo di lavoro perché eh sono fermamente convinta che per ogni tipo di per ogni caso per ogni evento che eh ci si trova a ad affrontare durante un'indagine ci siano dei ehm degli accertamenti delle degli elementi che sulla scena possono essere determinanti rispetto ad altri e anche degli esami degli accertamenti delle verifiche che possono essere essere fatte preferenzialmente eh rispetto ad altri e per quanto riguarda il caso della signora Resinovic è un po' emozionato si vede eh però è la prima volta state sereni non non sono io quelle che a me mi conosce ma insomma davanti a qualche migliaia di persone probabilmente verrebbe a cammò comunque tranquilla che sa tutto me la prego scusami scusami non ti interrompo più riguardo al caso della signora Resinovic eh mi sono eh rifiutata diciamo per evitare di condizionarmi di seguire programmi televisivi e quei cose diciamo un po' sensazionalistiche vari quarto grado chi l'ha visto via discorrendo perché mh credo che creino una ehm influenza su chi ascolta mi spiego non necessariamente negativa ma mh una cosa che l'esperienza mi ha segnato che su un caso qualsiasi tipo di ehm opinione di scritto di articolo di intervento televisivo si mh con cui qualsiasi tipo di eh analisi si ha a che fare contribuisce a darci un'idea su questo caso chiaramente e è capitato per esempio come dicevamo al convegno con il mostro di Firenze ogni volta che si sente o si legge o si parla o si vede qualcosa che riguarda il caso si cambia continuamente idea perciò ho preferito evitare eh le trasmissioni eccetera invece ho eh cercato di vedere i precedenti video che eh hai fatto su questo argomento con i vari esperti e ne ho eh individuati alcuni che secondo me sono molto validi mh ho ascoltato con molto piacere eh l'audio del signor Ferrini di qualche giorno fa infatti era da lì che volevo partire che ci ricordava una cosa secondo me essenziale che è il discorso della legge ora quello che si sa di questo caso tramite i social mass media e via discorrendo è quello che è trapelato cioè quello che si può dire perché non ci dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale le indagini sono ancora in corso quindi riallacciamoci al discorso proprio legge l'articolo 407 del codice di procedura penale ci ricorda che le indagini preliminari che sono le indagini che si fanno riguardo un evento o un caso per fare un'indagine per costruire tutta una serie di elementi che potrebbero portare ad un processo riguardo determinato reato hanno una durata stabilita dalla legge che è 12 mesi prorogabili a 18 per la grande maggioranza dei reati ma può arrivare a due anni in caso di reati di particolare gravità si intende associazione delinquere stampo mafioso e quello che ci potrebbe vagamente interessare nel caso di specie l'omicidio e il sequestro a scopo estorsivo è diverso dal sequestro di persona semplice sono due cose diverse almeno per quello che riguarda il codice penale se facendo un piccolo riepilogo se tutti sappiamo che la denuncia di scomparsa della signora Liliana è stata fatta il 15 dicembre 2021 correggimi se sbaglio quindi il giorno successivo al suo allontanamento ok siamo ancora in fase di indagine perché se vogliamo far partire da quel giorno il giorno quindi della denuncia di allontanamento volontario Giuliana ti interrompo io credo che il marito sia andato la sera addirittura la sera stessa quindi il 14 dai teniamo il 14 come come data viene a significare che noi fino al 14 giugno 2023 siamo in fase di indagine ergo non sappiamo se le indagini sono concluse se sono ancora in corso dovrebbero essere ancora in corso né tantomeno possiamo sapere se qualcuno verrà formalmente indagato e chi riguarda questa vicenda e hanno tutto il tempo si può fare anche in corso d'opera se ci sono sufficienti motivi sufficienti elementi per indagare qualcuno ma a meno che qualcuno sia stato indagato e noi non ne siamo a conoscenza che potrebbe anche essere c'è ancora il tempo ci sono ancora cinque mesi e mezzo circa di tempo perché qualcuno venga formalmente indagato quindi gli vengano fatti gli atti relativi all'avviso di indagini di persona indagata e tutto il resto perciò è normale che quello che noi sappiamo è quello che è trappelato dagli articoli dalle trasmissioni dalle dichiarazioni delle persone coinvolte che quello che hanno potuto dire perciò tutto quello che noi stiamo dicendo tutte le idee che ci siamo fatti tutti i pareri possibili sono congetture riguardo a quello che sappiamo sostanzialmente perché prima insistevo tanto sul discorso allontanamento volontario perché c'è una bella differenza tra la scomparsa di persona allontanamento volontario almeno normalmente si dice persona scomparsa le famose 48 ore tutte quelle leggende metropolitane le 48 ore sono un termine indicativo perché perché normalmente prima ci sono degli alert temporanei che vengono emessi nell'immediatezza dell'allontanamento di una persona per le ricerche questo per quello che riguarda chi si occupa delle ricerche sono degli alert temporanei che però scadono dopo 48 ore per questo si parla delle famose 48 ore necessarie una volta era così prima di fare una formale denuncia ma in realtà se io sono sicuro che un mio familiare è scomparso si è allontanato dopo sei ore sette ore la denuncia io la faccio immediatamente non è quello che fa la differenza quello che invece può fare la differenza è che si tende a considerare scomparsa di persona quando si tratta di una persona minorenne perché sono persone che non sono giuridicamente in grado di avere autodeterminazione non sono considerate persone adulte quindi sono persone meritevoli di tutela e lo stesso oltre 65 anni parliamo di persone anziane tutto quello che riguarda una persona tra i 18 e 65 anni non è necessariamente una scomparsa nella stragrande maggioranza dei casi è allontanamento volontario perché perché la persona è considerata legalmente adulta perché tecnicamente ha la capacità di autodeterminarsi di muoversi di muoversi liberamente di andare via di fare quello che gli pare ha dei documenti validi nella maggioranza dei casi ha la possibilità di spostarsi perché ha una patente di guida perché ha un conto in banca perché magari ha un'occupazione quindi è più facile che questa persona si allontani questo fermo restando i casi in cui io sono certo che tizio il mio familiare ha dei rapporti con o ha avuto a che fare con persone di un certo tipo magari persone appartenenti alla criminalità o è in un brutto giro oppure è stato raggirato da qualcuno è stato costretto a fare qualcosa e ne ho ragionevole certezza e allora come è capitato di sentire nei casi di tanti ragazzi scomparsi la questione ma era in contatto con una setta ma qui ma la magari in quel caso l'atteggiamento è diverso la persona viene comunque cercata si fanno comunque delle ricerche delle verifiche sugli ultimi spostamenti e tutto il resto però chiaramente io non se non per questioni affettive o questioni di obblighi giuridici in corso io persona adulta non ho nessun obbligo di dire dove sto andando cosa sto facendo nella maniera più assoluta quindi qualora la signora liliana abbia deciso di andarsene e la sua piena facoltà farlo posso posso farti una domanda che non so se tu può riuscire se riuscire a rispondere ma insomma te lo dico ma non perché ma perché tu sia studi anzi per un fatto di che molte risposte vanno a contrasto allora io sto camminando per la strada mi ferma la pattuglia della polizia ok e mi chiede dove stai andando io sono obbligato a dirlo allora obbligato nel senso che tu saresti obbligato sei tenuto a declinare le sue generalità questo sì e lo posso dire anche vocalmente senza tirare fuori i documenti giusto assolutamente se un cittadino italiano non ha nessun obbligo di esibire i documenti poi se invece si fanno dei dei degli altri tipi di accertamento e viene fuori che non hai declinato forse generalità allora un altro discorso però tu non hai l'obbligo eventualmente se hai l'obbligo di presentare il documento presso la più vicina stazione dei carabinieri per esempio se ti sei scordato a casa la patente stai guidando allora sì hai l'obbligo di certificarlo ma sei in possesso di patente viene verificato nei sistemi che tu sei in possesso di una patente di guida valida possono chiederti possono farti un invito scritto per andare alla più vicina stazione dei carabinieri ed esibire fisicamente il documento il tuo possesso a me già successo e invece se invece le circostanze di tempo di luogo le tue caratteristiche ti portano ad essere in un posto dove c'è qualcosa di strano del perché sei lì allora sarebbe il caso che tu lo dicessi e possono chiederti cosa stai facendo dove stai andando e tu saresti tenuto a rispondere ma eventualmente non è un obbligo tassativo io parto dal presupposto che allora io quando mi dicono che sta facendo io la prima cosa faccio dei documenti quindi però dal momento in cui tu parti prevenuto e non rispondi e non vuoi rispondere a prescindere da quale sia ragione secondo me hai già qualcosa a nascondere perché se passa un carabinieri mi chiede dove vai al mercato più che altro sicuramente penso che li fai li fai sospettire logico che se sono le tre di notte tu sei in giro vicino al cancello di una di un'azienda ipotesi con in mano una tronchese capisci bene la prima cosa che ti chiedono è cosa stai facendo mi hanno preso col canino mi hanno preso mi hanno trovato col canino alla stazione che girava col canino non mi cambiano fermato l'hanno visto che ero col canino e portavo il canino a picciare esattamente 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 non sai perché te l'ho chiesto te l'ho chiesto un motivo perché che si va a collegare no a quello che ti ho chiesto prima perché matteo binattieri in una trasmissione non mi ricordo in quale ha detto questa cosa non so se sia vero o meno che praticamente se tu stai viaggiando con la macchina facciamo finta no che io sia un poliziotto io vado un poliziotto fermo una persona fermo giulia cola che è una donna scomparsa cioè il marito ha fatto il come dire la denuncia per perché non la trova più va bene mi scomparsa io ti fermo e ti dico guarda che ti stanno cercando eccetera eccetera io non sono obbligato e tenuto a portarti a casa giusto assolutamente no ma sono obbligato sempre perché tu sei una persona adulta quello che si può fare è dire alla persona intanto si segnala che tizio è stato trovato vivo in buone condizioni di salute ok quindi ok ma lo puoi dire va detto al marito e se la persona non vuole no gli si dice alla persona per favore mettiti in contatto con i tuoi familiari che sono in pensiero che hanno sporto denuncia di scomparsa oppure gli si dice se è d'accordo avvertiamo i suoi familiari che l'abbiamo incontrata ed è in buona salute senza dare particolari ok questo perché è una persona adulta che ha tutto il diritto di allontanarsi assolutamente tutto il diritto logico che se io invece la trovo in una situazione di pericolo e l'eventuale pattuglia l'eventuale lo porta in salvo e allora è un altro discorso ma se in ipotesi io sono una pattuglia dei carabinieri sto pattugliando una zona incontro la signora Liliana da sola in mezzo alla strada avessi incontrato la signora Liliana da sola in mezzo alla strada che passeggiava tranquillamente in uno stato di salute comunque che mi sembra normale io posso dirle è lei la signora Liliana Resinovic sì no e guardi le cose stanno così ecco lì è stata sporta una denuncia di scomparsa nei suoi confronti i familiari sono molto preoccupati sul marito molto preoccupato se vuole può avvisarlo che oppure se lei è d'accordo noi possiamo semplicemente rassicurarlo sul fatto che lei sta bene e a posto senza dire dove ti ho visto che stavi facendo quando ti ho visto di preciso se la persona non ha consente perché così funziona ma io posso anche dire posso anche dire non voglio assolutamente avere a che fare con mio marito esattamente però tu come poliziotto lo devi segnalare tutto ci sono dovrebbe esserci la possibilità di segnalare che è stato controllato nel posto x questo però un discorso di sistemi ehm dedicati diciamo sì sì allora io voglio arrivare poi a una conclusione ecco non so se fatta scientificamente ripeto non so tu non sono chiminologa non hai studiato particolari cose ma insomma io credo ehm questo se una persona eh tu hai capito hai centrato il punto hai detto subito hai parlato di Liliana se Liliana in quei venti giorni fosse stata eh fermata dai poliziotti avesse detto no io non voglio parlare con mio marino però da qualche parte dovrà essere rimasta traccia che questa donna è stata fermata penso che loro debbano comunque segnalarlo questa è stata poi magari rimane in archivio rimane in archivio però eh sì dovrebbe rimanere presumo che rimanga nei nei sistemi nelle loro cose dedicate ecco in questo senso io credo che era un'indagine del genere si è uscito fuori a meno che De Nicolo non sappia che è lui che lo deve sapere che è stata fermata il 2 dicembre davanti all'ospedale piuttosto lì e ora questo noi non ne danno sapere va bene perfetto è stata chiarissima ho capito infatti Vinatieri diceva così aveva ragione beh Matteo non è che non mi fido di te però chiedo a che esterni allora che stavi dicendo che questo è il sono le due cose che mi interessava innanzitutto eh spiegare perché c'è un sacco di confusione io leggo anche nei vari eh commenti che ci sono in giro in quello che si legge perché il pregio e il guaio di internet del social e del resto è che purtroppo o per fortuna tutti possono esprimere un'opinione in merito che succede che ci sono pareri competenti da addetti ai lavori gente che eh ha studiato che si occupa per lavoro di queste cose come invento investigatori appartenenti alle forze di polizia eh criminologi gente che ha gli strumenti per poter interpretare alcuni segni alcuni eventi alcuni particolari poi ci sono quelli che magari sono appassionati si informicchiano un po' di più e poi ci sono le persone normali lo spettatore di quarto grado che dice no secondo me eh la signora è stata rapita per questo 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 motivo tutte ipotesi bellissime però se noi non teniamo presenti i punti certi che sono ripeto gli articoli di legge le procedure e tutto il resto non possiamo possiamo farci un'idea che possiamo innamorarci di tutte le ipotesi suggestive che ci piacciono ma dobbiamo avere i fatti in mano e i fatti che cosa ci dicono veniamo al discorso specifico che la signora Liliana il giorno 14 dicembre è uscita di casa a che ore era l'otto e quaranta circa no no prima 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 delle otto mi pare allora io mi ricordo da quello che è stato detto anche nel dibattito con scrivo che mi è servito molto perché ho fatto e la signora da criscio ho visto che è stato fatto proprio un recap di tutti i movimenti della giornata mi sono segnata alcuni eh orari alcune cose eh che sono utili diciamo allora 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 ti dico Giulia ti fermo un attimo lei ha lei è lei ha chiamato eh Claudio Sterpin alle otto e ventidue alle otto e ventidue ok quindi il marito già lì non c'era era già uscito perché il signor Sebastiano è uscito di casa all'otto meno venti circa perché doveva fare delle consegne ricordo perfetto ed è andato via in macchina quindi doveva fare dei tratti abbastanza lunghi aveva quella consegna fuori fuori città e tutto il resto da premettere che un'altra cosa importante la provincia di Trieste non è grande la provincia di Trieste conta quattro comuni soltanto è molto piccola solo che ha una conformazione per la quale per spostarsi da una parte all'altra ci vuole del tempo lo so perché ho vissuto a Trieste un anno quindi ho ben presente come funziona la zona quindi può essere che effettivamente il signor Sebastiano per fare un paio di consegne ci abbia messo veramente due ore perché lì le strade sono veramente complicate fermo restando che da dove abitano loro è molto facile raggiungere la tangenziale che collega la città e il resto della provincia perché è appena sopra eh loro si trovano la loro abitazione si trova nella parte abbastanza alta di Trieste proprio direzione sia tangenziale sia confine di stato cioè siamo nella zona mh abbastanza vicina al alla zona delle foibe purtroppo che sono di fatto vicino al confine con la slovenia sono benissimo dove sono le foibe ci sono anche stato quindi perfetto un'esperienza veramente da fare bisognerebbe andare a vedere qual è la nostra storia però soprattutto chi dice che non è vero dovrebbe farsi un giro e vedere il freddo l'angoscia che c'è lì dentro perché è una cosa anche io consiglio di andare anche alla risiera mamma mia eh sì anche lì sarebbe da andare mia cognata stava ora non ha venduto la casa stava molto vicino alla ridendo a piedi alla risiera e le cose che hanno raccontato che facevano del tipo quando sparavano alle persone accendevano le camionette e davano gas per non far sentire il rumore da fuori cioè delle cose perché è proprio in mezzo alla città la risiera di san sabba di fianco il palazzetto dello sport quindi c'è proprio stiamo veramente allora è vero che ci sei stato ci ho vissuto quindi e quindi dicevo è molto assolutamente plausibile che lui abbia appunto impiegato questo famoso paio d'ore prima di recarsi al suo laboratorio quindi la signora liliana alle otto e ventidue parla con il signor sterpin e dice guarda faccio tardi per il nostro appuntamento non riuscirò ad essere per le 10 necessariamente perché devo andare a questo negozio di telefonia allo wind ed è la prima cosa strana a parte che a quale negozio di telefonia che ce n'è tre o quattro di wind lì almeno in zona di centro ce n'è uno vicino al centro commerciale ce n'è uno più sotto andando verso la zona sei andato a fare l'analisi dei ruoli eh sì perché ho anche fatto il calcolo delle distanze di quanto tempo ci vuole a piedi da casa eh loro fino al laboratorio del signor Sebastiano e al al bosco al boschetto dove è stata poi trovata la signora quindi ci sono delle distanze che si possono coprire a piedi mh più vicino il bosco verso casa più lontano invece al laboratorio del del signor Sebastiano sono circa tre chilometri e mezzo tre chilometri otto quindi distanze che si possono coprire da piedi ma con un certo tempo quindi dalla fine dopo aver detto questa cosa al signor Sterpin la signora Liliana se ne esce di casa alle otto e quaranta circa perché i vicini di casa dicono di averla vista che usciva ok allora per andare sulla strada principale la strada dove loro abitano è una strada chiusa molto corta allora ti interrompo anche qui il fatto che sia uscito di casa ci sarebbe un eventuale testimone e non ho ancora capito se si è più o meno palesato perché dicono sì che l'hanno vista non hanno vista non i tuoi detti vicini di casa giusto no non sono stati vicini di casa perché i vicini di casa sono sono apparsi successivamente dopo se stai parlando di Salvatore Nasse di Gabriella eh di Gabriella Necchieri sono sono apparsi sono palesati dopo insomma non è il loro non hanno detto di averla vista uscire dice c'è un ci sia un testimone che l'ha visto uscire mentre mentre andava a gettare la spazzatura e questo è qua chi chi diceva io non so se poi alla fine c'è o meno perché c'è una trasmissione lo diceva ma istituzionalmente la trasmissione è scomparsa è vero è vero ah è anche vero che anche qua qualora ci fosse un testimone non lo possiamo sapere ufficialmente sempre perché gli atti di indagine noi non ce li abbiamo quindi stiamo sempre a quello che è stato riportato dai vari programmi vero è che nessuno vieta a tizio di dire sì l'ho vista ma non l'ho vista però se hai rilasciato delle dichiarazioni tutto il resto insomma anche lì bisogna è tutto tutto da vedere le cose certe le cose certe sono che la telefonata abbiamo detto e poi che in teoria lei è uscita ok poi secondo me anche in pratica magari tu la pensi nell'immediatezza dell'orario lì poi tutto è interpretabile mi spiego c'è tutta una serie di controversia di gente che dice ah ma com'è possibile che non si sono mai sentiti col signor sebastiano in tutto il giorno il marito qui e là ma noi come facciamo a sapere se non per quanto ci viene riportato dai diretti interessati o dalla cerchia di persone intime quindi parenti stretti amici o altro quali fossero le abitudini di questa coppia come quelle di tutte le altre coppie io posso sapere quali sono le abitudini mie nella mia coppia o le abitudini tra mia sorella mio cognato ma perché sono dei parenti che poi che poi le posso sapere abbastanza dettagliatamente ma non nella quotidianità perché io non ci sono quindi se il signor sebastiano dice non avevamo abitudine di sentirci più di tanto durante il giorno ci ritrovavamo la sera a casa come ho visto che è stato riportato noi come possiamo dire è impossibile non lo possiamo sapere così come non possiamo possiamo interpretare la personologia della signora liliana in tutti i modi che vogliamo ma se non ne abbiamo una conoscenza diretta possiamo stare a grandi linee su quella che sono le statistiche i comportamenti standard che possiamo pensare all'interno di una coppia va bene per esempio può capitare che se uno fa un certo tipo di lavoro magari per ora non riesce a contattarsi mi spiego magari il signor sebastiano dovendo fare affidatura di coltelli deve nel suo lavoro prestare un certo tipo di attenzione deve stare al macchinario concentrato ci vuole del tempo rischia di farsi del male quindi molto probabilmente il telefono lo lascia poi da un'altra parte e quando ha finito eventualmente controlla il telefono o manda un messaggio fa una chiamata mi viene da pensare molto banalmente molto banalmente idem quando è andato a fare il famoso giro in bicicletta se già deve tenere dietro a questa gopro che io credo si metta o sulla bicicletta o in testa perché tecnologia zero quindi non ho idea di so che va fissata in un qualche punto sì in realtà è un action cam realmente si mette o sulla bicicletta ma al 99 per cento si usa si utilizza c'è proprio il supporto a mettere sul caschetto ah ecco c'è proprio un coso perfetto non lo sapevo nemmeno da notare l'ho regalata a mio fratello qualche paio di anni fa non ho idea di come funzioni va bene lo stesso te paga non ti preoccupare vabbè quindi anche qui anche qui va da sé che se il signor sebastiano è andato a farsi un giro in bicicletta di un'ora un'ora un quarto quello che è non è che ha usato il telefono se doveva guidare la bicicletta fino a dietro la registrazione quant'altro giustamente anche perché sfido chiunque ad andare in bicicletta per le strade di trieste e a non mettere le mani sul volante francamente considerata la pendenza e tutto il resto insomma soprattutto nelle zone ripeto limitrofe alla loro casa che ci sono certe salite con una pendenza bestiale dopodiché ci sono zone boschive e strade semisterrate la tangenziale che sbuca tutto il resto insomma sempre perché deve parlare con condizione di causa adesso qua senza prendere le parti dell'uno dell'altro ma noi che cosa abbiamo come certezza sicura che da quel momento lì in poi non abbiamo tracce certe a meno che non sia stato scoperto dell'altro dire cosa fa la signora Liliana perché lei esce di casa e su questo siamo tutti d'accordo ma lascia i telefoni ora statisticamente e letterariamente diciamo ci si insegna ci insegna che la prima cosa che fa qualcuno quando vuole sparire soprattutto nell'era digitale è lasciare il telefono dietro di sé perché questi meravigliosi attrezzi che sono fortuna e la rovina del mondo moderno tracciano tutto quello che fai tutto quello che dici i tuoi esamenti tutto il resto mi è capitato volte il famoso esperimento sto parlando di qualsiasi argomento dopo ore mi compaiono degli articoli nella cronologia suggeriti riguardo quell'argomento anche se io non lo ho fisicamente cercato con il motore di ricerca quello che o di chiedersi voglia quindi se io voglio sparire la prima cosa che faccio è lasciare dietro di me questo se voglio sparire per un tempo lungo un tempo breve è la stessa cosa ma il telefono non me lo devo portare giusto perfetto quindi lei ha lasciato due ma guarda ti racconto questa cosa qua noi eravamo a tavola stavamo cenando e io una sera ho detto non mi ricordo cosa ho detto che voglio ma devo devo comprare non era quello ma insomma è la sostanza e questo qui devo comprare un cuscino per la cervicale oltre sono tornato su qui in ufficio e mi apparivano messaggi di pubblicità su amazon che vendevano il cuscino per la cervicale chi gliel'ha detto e sì sì non l'hai cercato fisicamente su amazon però è così è così quindi ci sta che lei che voleva sparire alla il telefono ci sta se voleva allontanarsi come effettivamente ha fatto e questo è coerente con il quello che sappiamo insomma con la con la cornice della vicenda potrebbe anche aver detto doveva andare alla wind per giustificare il fatto che non avrebbe potuto utilizzare il telefono per un po' mi viene da pensare raccontando al signor che doveva andare alla wind io sto mi viene da ridere perché stamattina ho parlato con ora ti vedo un po' a tratti forse è la mia linea che assolutamente va male perché stamattina ho parlato con Valerio va beh Valerio scrivo naturalmente mi ha detto le stesse cose che stai dicendo tu quindi posso cominciare a credere che si possa essere vero ora ti lascio parlare e continuiamo il discorso poi le considerazioni le faccio alla fine e anche questo potrebbe essere coerente con tutto il discorso poi è arrivato questo messaggio da parte del fratello che lei non ha mai visualizzato quindi era già uscita avendo lasciato per forza e questo che lei non ha visualizzato il messaggio lo sappiamo riferito dal fratello chiaramente anche perché anche lì noi dei telefoni tolto queste informazioni non sappiamo niente non sappiamo dove sono i telefoni se nel frattempo sono stati sequestrati chi ci ha messo in mano non sappiamo niente se non quel particolare che si diceva anche sempre nella trasmissione che al momento della denuncia non sono stati acquiti mi pare di aver capito anche qua potrebbero esserci centomila spiegazioni che io onestamente non essendo l'addetto ai lavori che sta seguendo questa quale tipi a seguire che tipo di modalità stiano seguendo detti ai lavori ecco perché magari hanno delle buone motivazioni eh ora non ti sento nemmeno io no è un problema di linea credo sia un problema di linea anche mia eh perché sento il ritorno non ti vedo neanche più chiara non lo so perché ogni ogni tanto anche io ho la connessione che una connessione che fai capricci forse ora ora ti sento te c'è la fibra sì eh non ne ho idea ma stai usando il telefonino non ho il computer il computer sì ma è attaccato alla linea di casa sì il c'è un modem dedicato sì 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 non è avrai la fibra sicuramente sei avrezza un po la tecnologia eh vero ma è vero ci pensa Antonio io so sempre il famoso taccuino scrivo è bello che me lo dire è bella la foto che ti ho fatto però eh infatti vedi è l'unica che non ho guarda è l'unica che non ho pubblicato perché me la sono tenuta nel mio hard disk la tengo lì perché secondo me è avuta molto bene poi dopo ti devo fare delle domande per quanto riguarda le altre cose quindi anche i telefoni la storia dei messaggi ma lei ha mandato quel messaggio ma lui ha mandato quell'altro messaggio non sappiamo se è vero se non è vero se i messaggi sono stati mandati se non sono stati mandati sono foto di questi messaggi fatti vedere da tizio o da caio che sono comparse in televisione quindi di fatto che riscontro abbiamo noi di questo nessuno abbiamo un riscontro solo che sempre dichiarato dal signor sterpin lui è andato al famoso negozio wind che non sappiamo qual è per chiedere se la signora Liliana avesse l'appuntamento in realtà sì l'hanno detto qual è hanno detto anche la via dove si trovava ora però a memoria non mi trovo impreparato però sì è stato detto qual è il negozio è stato anche filmato non so se sono andati giornalisti anche al negozio comunque stati fatto che al negozio hanno detto siccome ci voleva l'appuntamento ai tempi del covid che non che Liliana non aveva nessun tipo di appuntamento questo ne sono quasi certo è anche vero che il signor sterpin non è un familiare quindi anche gli addetti del negozio avrebbero potuto benissimo dire una cosa per l'altra perché dicono ma tu chi sei io non ti posso dare informazioni per questioni di privacy o altro quindi anche questo è verificabile mi permetti ma ora parte lo sterpin che sia andato lui o meno gli abbiano detto una cosa per un'altra generalmente quando non ti vuole una cosa ti dicono vada di lei non è un familiare cazzo gliene frega cioè scusate certo ma poi va la polizia la polizia non glielo dice cosa te ne frega anzi ti tocca parlare e dire anche la verità giusto quindi presumo che successivamente siano andati anche e poliziotte a controllare veramente avranno verificato è una delle prime cose che hanno verificato visto che si sapeva l'informazione dello spostamento l'unica informazione sugli spostamenti di quella giornata che si aveva in quel momento era quella perché di fatto poi non si sapeva cosa avrebbe fatto la signora liliana durante la giornata se non ipotizzando che facesse le solite cose andasse dall'amica x o facesse un giro o andasse in bici le abitudini che normalmente poteva avere in un giorno ecco e anche qua poi un'altra cosa stranissima che ho notato è il discorso dei vicini di casa mi spiego il signor steppin contatta i vicini di casa presumo perché non ha voluto contattare il signor sebastiano pur conoscendolo pur probabilmente avendone i contatti perché non avendo più avuto notizia della signora liliana ha immediatamente pensato che il signor sebastiano potesse 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 essere coinvolto in questo senso poi perché lui si allarma subito anche questo mi sembra un po strano cioè ci sono tutta una serie di comportamenti che visti da fuori risultano o un po strani o incoerenti però sempre visti da fuori ripeto perché è sempre non conosciamo quali fossero le effettive abitudini della signora né se le persone a lei vicina sapessero effettivamente quali fossero le sue abitudini il signor sterpin fino a che punto aveva una quotidianità con la signora liliana se siamo al 14 dicembre e lui assume come data di inizio di questa relazione un mese e mezzo prima ottobre mi sembra io mi ricordo mi par di ricordare un 25 ottobre stiamo parlando di un mese e mezzo che quotidianità io posso avere con una persona dopo un mese e mezzo attenzione si conoscevano da tanti anni però sì conoscersi da tanti anni è una cosa ma avere una quotidianità con una persona un'altra cosa secondo me è molto diverso quindi ci sono tutta una serie di atteggiamenti da parte di chiunque sia coinvolto in questa questione che sono secondo me scarsamente interpretabili se non abbiamo una conoscenza precisissima della quotidianità delle persone o degli atti possiamo solo ragionarci a questo punto le certezze che abbiamo sono che anche i vicini di casa che si dice insistono con il signor sebastiano per questa rinuncia di scomparsa perché nel frattempo hanno saputo che il signor sterpin la stava cercando e tutto il resto va bene ma a questo punto mi viene da pensare la signora gabriella e il signor salvatore che vengono coinvolti dallo sterpin in questa questione il quale è molto allarmato si allarmano a loro volta perché non dire al signor sebastiano guarda che abbiamo saputo dallo sterpin così ecco lì quindi è bene che acceleriamo un attimino i tempi anche questo non c'è senso cioè io provo a pensare mettendomi nella stessa situazione vengo a scoprire che la mia vicina di casa ha una storia parallela la vicina scompare la persona con cui ha una storia parallela è nel panico è spaventato ha paura che le sia successo qualcosa dice com'è possibile ci dovevamo vedere e non dico niente al marito della vicina gli dico guarda che la situazione ti piace non ti piace purtroppo è questa potrebbe esserci qualcosa di grave facciamo qualcosa logico che il signor sebastiano li prende per dice ma che è tutto sto allarmismo mi spiegate io avrei ragionato nello stesso modo assolutamente nello stesso identico modo tra le altre cose ma se effettivamente ci fosse stato questo weekend organizzato per il sabato e la domenica il 14 dicembre era un martedì fossi stata io al posto dello sterpin mi sarei allarmata al momento della partenza del weekend non quel giorno lì mi pare sempre da fuori sempre in mancanza di elementi tutto il resto se le cose stessero effettivamente così come le sappiamo c'è un sacco di gente che sa qualcosa non parla qualcosa di più che ci manca che manca per mettere a posto i pezzi perché così com'è non c'ha senso nella maniera più assoluta non c'ha senso ma proprio ma ma assolutamente perché poi tutto ripeto mi sarei allarmata al momento della partenza sono d'accordo che il sabato giorno cos'era 18 17 18 già mi sto confondendo 17 sarebbe stato il sabato sabato 17 abbiamo appuntamento alle 9 per partire andare al lago di bled ipotesi che sta un'ora di strada la chieste devo andare ci dobbiamo trovare che ne so alla fermata di pullman vicino ai cendem per partire e lei non arriva la chiamo il telefono è staccato allora mi allarmo non martedì non sapendo ma perché perché lei ha detto che passava da casa mia a stirarmi la roba no allora io giulia volevo condividere un'osservazione con te io purtroppo quando naturalmente stai facendo non te lo dico perché ci colpi che siamo amici altro dico perché stai facendo delle ottime considerazioni il ci sono delle cose che mi lasciano pensare naturalmente senza puntare il dito contro nessuno perché sono facilmente verificabili ci mancherebbe altro ci facciamo perdiamo a chiacchierata no che poi condivideremo anche con altre persone che ci guarderanno mi è rimasta impressa una scena molto forte cioè del fatto che una giornalista prima che Liliana venisse trovata va da Claudio e dice lo sa che l'hanno vista il 22 di dicembre e questo c'è risultanza no che c'è una signora che ho anche intervistato dai media che l'hanno vista in piazza dell'ospedale maggiore no no non era lei perché o è stato sequestrato o è già morta ora io tutta questa sicurezza come fai ad averla cioè evidentemente evidentemente ora io non voglio colpa nessuno ci mancherebbe altro però secondo me andava un po approfondita anche me lo chiede uno dice pensare per per avere un ego smisurato dice no vabbè tanto è come dico io non ne conosco le persone che fare così probabilmente è successo questo io avrei approfondito un goccetto no anche questa forma te come fai a sapere che è già morta esatto a meno che a meno che la questione dell'allontanamento non rientri nella casistica di cui dicevo all'inizio cioè che c'è un problema dietro c'è la persona che sparisce invischiata in un brutto giro il classico caso da romanzo no tizio bersagliato dai creditori si è fatto prestare dei soldi da un usuraio e sparisce ok quella cosa lì se io ne ho contezza ne ho certezza allora posso anche dire no non può essere lei ma tu che ne sai anche perché il punto di domanda più grosso è venendo alla cosa concreta quando è stata rinvenuta l'unica cosa certa è che per tutta una serie di elementi che sono stati poi che sono emersi dalla vari accertamenti tutto il resto è che la signora non poteva essere morta da più di due giorni ok che per tutta una serie di elementi è abbastanza plausibile ma dove è stata dal 14 dicembre mattina al 3 di gennaio sono quasi tre settimane e sono tante tre settimane peraltro tre settimane sta via e viene trovata un chilometro e mezzo da casa dove è stata noi non sappiamo se avesse con sé dei soldi perché io posso anche lasciare il mio portafogli a casa con le carte tutto il resto sempre perché grazie alla tecnologia le carte sono tracciabili ma magari aveva del contante dove è stata per tre settimane questa signora se se effettivamente come si diceva anche nella nel dibattito con il dottor scrivo e la signora da criscio se effettivamente è stata trovata pulita con i capelli a posto addirittura depilata rasano si era si era rasata non deve essere una differenza che questa è un'altra cosa certo che c'è una differenza perché anche lì si parla di tempistica di ricrescita fisicamente usando il rasoio chiunque anche per farsi la barba lo sa crescono molto più in fretta rispetto alla ceretta non guardare me perché io non me la faccio la barba sono sempre lunghi anche a livello di uomini e mi viene in mente per esempio chi va abitualmente in bicicletta un ciclista si 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 e rasi se rasi crescono immediatamente se fai la ceretta qualche giorno durano esatto tant'è che le donne per praticità anche chi è abituato a utilizzare il rasoio per questioni di quantità quando va in vacanza che deve stare più tempo al mare si va a fare la ceretta perché sennò cresca subito cioè proprio parlando in termini molto pratici vuol dire che se è stata trovata rasata perfettamente come è stato riferito è una cosa che è successa vicino al momento della morte giusto che ancora di più mi fa dire ma dove è stata per tre settimane questa signora chi le ha dato ospitalità eventualmente è questo che è la cosa più strana per questo dico qualcuno che sa o ha delle informazioni ci deve essere per forza per forza oppure delle informazioni chi ha parlato riguardo questa cosa sa qualcosa che non ha detto o per motivi di sento male indagine che potrebbe anche essere questo va di nuovo vai e viene ora io ti sento sì sì ma nel caso metto il podcast non è un problema però non non si capisce non si capiva bene quello che hai detto dicevo per forza qualcuno sa qualcosa o ha delle informazioni in più che non ha detto che poi non le abbia detto per dette per motivi suoi o anche noi non possiamo saperlo per motivi di indagine questo non lo sappiamo però mancano delle informazioni per forza l'unica certezza che noi abbiamo è che c'è un buco fisicamente un buco tra che va dal 14 dicembre fino al 3 di gennaio indicativamente che sarebbe la presunta data di morte indicata poi cosa altra strana la famosa questione che i sacchi non i sacchi ma tutte le informazioni che sono uscite sul discorso su come è stata fisicamente rinvenuta anche questo può essere strano ci sono tutta una serie di cose che potrebbero non essere proprio con coerenti con il discorso del gesto autolesionistico anche lì ci sono tutta una serie di cose strane la questione dell'orologio mi viene in mente un'altra sappiamo noi con certezza se la signora liliana fosse mancina o destrorsa primo sì credo di sì che sia stato trattato questo credo è ora che sia che non fosse mancina è secondo le foto ci fanno vedere che l'orologio è sul polso destro se non vado errata non mi ricordo ed è stato trovato invece quando l'hanno trovata sul posto il posto giusto era una leggenda metropolitana anche questa quindi anche lì però è vero che era stato che ti fermo subito perché se no poi ti cominciano a offendere l'hanno trovata che l'hanno trovata nel braccio quindi è falso anche il fatto che fosse a rovescio col quadrante girato esatto perché anche lì sicuramente se questa cosa è stata smentita vuol dire che qualcuno ha dedotto che fosse rovesciato guardando una foto perché le foto sono opposte a quello che è il nostro punto di vista perché la foto fa specchio quindi è tutto rovesciato cioè io porto l'orologio a sinistra mi sto guardando adesso è come se fosse a destra io lo vedo a destra perché è rovesciato sì ci sarà sicuramente stato qualche facilone che ha interpretato questa cosa con al polso sbagliato l'orologio a rovescio e qui là un attimo pensiamoci prima di quello che potrebbe invece essere abbastanza strano è il fatto dei sacchi su un terreno che io ho visto un po dappertutto descritto come molto abbastanza impervio ci sono dei rovi ci sono dei rami tutto il resto e invece a quanto pare questi famosi sacchi erano completamente integri senza graffi senza strappi senza nulla mi pare un po difficilino pensare che una persona si sia potuta infilare dentro i sacchi da sola senza fare un abrasione senza rompere senza niente questo può essere strano probabilmente poi non mi voglio ad entrare in questioni complicate come il discorso del sacchetto sul viso non sacchetto sul viso asfissia non asfissia non siamo dei medici legali primo non abbiamo delle foto di questa cosa non abbiamo fatto l'autopsia non eravamo presenti al momento di rinvenimento quindi non possiamo sapere fisicamente come erano queste cose quello che abbiamo è la foto del famoso cordino messa da chi l'ha visto ma lo sappiamo quanto era grande no perché non mi pare io ne ho vista una sola di foto cercando proprio banalmente facendo una ricerca su google e non si vede quanto è grande non c'è una quella affare che si chiama striscetta metrica vicino perché è una specie di righello che si mette nelle foto classiche quella è la scena del crimine che si vedono sempre un righellino bellino magari non così che si mette vicino all'oggetto per far capire le reali dimensioni no poi ci sono altri mille modi per far capire la reali dimensioni di una cosa però normalmente si usa quindi non c'è neanche quello in quella foto lì diffusa c'è uno spago con un nodo tagliato ovviamente perché letteratura ci insegna che quando si trova un cavo una corda un cordino di qualsiasi tipo su una scena del crimine si taglia lontano dal nodo perché intanto prima si deve fotografare nella posizione in cui si trova e anche rispetto alla persona si è attaccato ad una persona e poi si taglia lontano dal nodo perché il nodo nel modo in cui è stato fatto può dire molte cose se è stato fatto dalla stessa persona se è stato fatto da terzi sempre per il discorso dello specchio lato adesso lato sinistro tutto il resto conoscendo ovviamente se la persona che può averlo fatto è marcina o destrorsa ci sono una serie di variabili infinita infinita per questo io dico tutti ma non è possibile che si sia uccisa da sola con il sacchettino o il cordino tutto il resto ma come facciamo a saperlo come i fatti che sono trapelati sono che c'erano questi sacchi sia sul viso che i sacchi poi che la coprivano che era vestita più o meno stando alla descrizione del testimone che l'ha vista con la spazzatura all'incirca come era uscita di casa sì aspetto anche qui anche qui anche qui c'è da valutare alcune cose il colore degli abiti dici sì perché la la fruttivendola che dice di averla vista passare davanti al negozio e dice di averla vista con abiti scuri invece lei poi aveva il giubbotto grigio chiaro grigio chiaro quindi anche lì non tornerebbe molto però lei dice io la conosco la conoscevo come la testimone che naturalmente io mi sono accettato chiedendogli se ero andato prima in questura a parlarne e mi ha detto sì dici di averla vista la sera stessa la sera stessa nel momento in cui è sparita quindi 14 sera alle 19 come fa a ricordare il cellulare perché in quel momento ha ricevuto una chiamata importante quindi si ricorda il 19 l'ha vista con le scarpe slacciate ma era un po' confusa queste sono le scarpe slacciate ok sì tutto può essere sì uno in senso io guarda allora se io conto una persona la prima cosa che guardo è un sono le scarpe cioè nel senso come ti fai a ricordare bravissimo hai centrato il punto come ti fai a ricordare le scarpe bravo questa era un'altra cosa che volevo approfondire allora esperienza ci insegna che primo non tutti sono osservatori secondo i particolari che una persona può notare dello stesso oggetto o della stessa persona possono variare cioè se io e te vediamo una persona come vestita ok la stessa persona nello stesso momento io posso ricordare alcuni particolari che mi hanno colpito tu puoi ricordarne degli altri ok non tutti sono bravi a riferire questi particolari al di là del discorso identikit che non apriamo perché altrimenti non si finisce più non tutti sono e normalmente su cosa ci si concentra sulla parte superiore della persona quindi capelli il colore principalmente dalla vita ma il colore spesso si sbaglia sul colore degli occhi la l'inattendibilità proprio a dei livelli perché quello è uno dei particolari più sbagliati in assoluto in assoluto e come era vestito nella parte sopra tant'è tant'è che nessuno si ricorda delle parti sotto infatti chi si vuole camuffare il classico rapinatore della farmacia cosa fa se lo mette al giacchetto se lo mette al rovescio o cambia la felpa perché quello ti ricordi tu ti ricordi che io oggi tra una settimana ti ricorderai che io oggi ho il maglioncino nero con i cuoricini e con i bianchi se sei troppo ottimista non mi conosci io se me lo chiedi stasera se me lo chiedi stasera non me lo ricordo mica io mi ricordo me l'ho vestito io ieri figura nel senso certo nessuno mai guarderà le scarpe infatti le scarpe non se le cambia mai nessuno scarpe i pantaloni perché perché come te lo spieghi oh me l'ho detto a me è una questione è una questione proprio fisica di peso visivo un discorso di ehm come si dice di focus dell'attenzione perché normalmente siamo abituati a guardare una persona in faccia e immediatamente sotto al viso c'è il busto quindi tu anche non volendo ti concentri su quello sì e ti ricordi quello è difficile che uno veda com'è la persona vestita nella sua interezza infatti quando il classico classico allora io per esempio scusa io mi ricordo perdonami eh ora per fare una io mi ricordo spero di come eri vestita tu al convegno avevi un cappello grigio giusto? sì nero scuro sì ah vedi vedi è un maglione grigio il maglione era grigio sì perché era un maglioncione di quelli enormi tutti mi ricordo anche mi ricordo anche le calze e le scarpe ma c'avevo i pantaloni forse o leggins non mi ricordo avevi leggins però il maglioncione però si vede capito certo no no non è che non volevo non volevo far vedere che ti osservo cioè mi ricordavo che mi ricordavo se mi dicessi c'era anche una nostra amica la Nora io mi ricordo bionda perché mi ricordo e mi ricordo la faccia ma ti avesse a dire come era vestita dal collo in giù devo andare a vedere la foto nel modo perfluo certo quindi perché le scarpe cioè perché le proprio le scarpe slacciate cioè perché le ha guardate le scarpe a meno che non sia una persona che avvezza per ragioni di mestiere o per curiosità sua a guardare le scarpe io per esempio è una cosa che faccio sempre perché io sono un po' lombrosiana io sono un po' lombrosiana sì io penso che l'aspetto di una persona un po' lombrosiana un po' scerlochiana diciamo l'aspetto con cui una persona si presenta dedica moltissimo della persona soprattutto la scelta delle scarpe esatto brava ma tantissimo tantissimo molto più di le mani quello o quell'altro il discorso delle mani poteva avere un senso anni fa adesso tutti si curano le mani quindi cioè bene o male chiunque si mette la crema per le mani che se fa freddo certo certo quasi nessuno ormai più lavora la terra o fa il muratore o che ne so il lavoro prettamente manuale quindi guardare le mani lascia il tempo che trova io da ti interrompo Giulia in realtà io sì è vero guardo anche le scarpe soprattutto nelle donne io sempre però io guardo secondo me una persona si denota affatto e sicuro io o meno io lo so che non lo sai io guardo i denti anche io guardo se una donna si cura dai denti se ce li ha puliti belli non gli mancano eccetera vuol dire che cura se stessa e poi a volte naturalmente possono essere che nascere dei fattori economici che non si può rimettere un dente io ho avuto i denti maltrattati per un po' poi dove sono deciso ho speso un patrimonio ma insomma però io guardo quello per me se una donna gli manca un dent una parte per me è già chiuso certo sicuramente e poi se mette la H davanti alla hai di avere quello poi no guarda va beh anche io sono un po' come si dice sui social sei un po' gran marnazzi sono fissata quindi dico perché sta signora si ricorda delle scarpe non lo so questo sarebbe da chi è ora dal lato non è che più il numero però anche lì mi è sembrato strano cioè io vedo perché lei ha detto che lei la conosceva marginalmente facciamo un po' come io conosco te perché noi ci conosciamo a tanti anni su facebook però di persona ci avevamo visti solo una volta esattamente come se io ti incontrassi per la strada agitata così no e ti vado a guardare le scarpe perché posso capire magari non ti dico nulla nel senso perché posso peritare del chiettio che ti è successo però perché proprio le scarpe esatto allora questo assolutamente ci tengo a dirlo non è non sto andando dicendo non ho conto la signora che ha testimoniato perché no no per amor del cielo perché tante volte si con permesso scusate tranquilla tranquilla qui puoi fumare se te fume per fortuna tante volte si si dicono tanti particolari per aiutare la polizia per rendersi utile la polizia magari sono dei particolari che sono indotti anche involontariamente bravissimo perché loro ma per caso era bionda si era bionda magari quella era rossa sono state fatte delle prove da Elizabeth Loftus quindi è proprio quello che volevo è proprio dove volevo arrivare l'inattendibilità senza cattiveria attenzione no 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 l'inattendibilità delle persone di una persona qualsiasi ma perché perché magari un po' se tu l'hai vista ti ricordi dei terminati particolari dopodiché alcuni vengono aggiunti o per suggestione o perché ricordi dei particolari della stessa persona che avevi visto precedentemente in un'altra occasione e tendi ad associarli esatto oppure perché preso dal peso della situazione o di una situazione grave la signora la stanno cercando la signora potrebbe essere in pericolo e tutto il resto voglio aiutare a tutti i costi e quindi cerco di esatto capito è un po' come quando siamo convinti avere dei ricordi dell'infanzia molto nitidi io dei ricordi dell'infanzia ne ho diversi alcuni sono richiamati da fotografie ce ne sono proprio un paio ma veramente un paio che sono nitidissimi di un momento che ho vissuto ma è un momento un secondo per dire a me il famoso mostro di Firenze io mi ricordo avevo tre anni mi ricordo l'immagine al telegiornale della golf bianca dei francesi avevo tre anni appena fatti ho solo il fotogramma io davanti alla tv che vedo questa schermata la tenda la golf bianca basta ma quello non tutto quello che ci ruota intorno poi magari ho il associ delle altre cose quello si chiama costruzione del ricordo e purtroppo quando si fanno delle domande a delle persone per far raccontare un fatto succede molto spesso che si aggiungano dei particolari che non sono mai esistiti o che sono esistiti in un altro contesto in un altro momento legati alla stessa persona può essere che questa signora che conosceva da me si dice di vista conosceva la la signora Liliana esatto marginalmente per averla incontrata due tre volte magari mi viene in mente questa signora questa testimone in vento ha accompagnato il marito ad una gara podistica alla quale erano presenti anche la signora Liliana e il signor Sebastiano e ha chiacchierato un attimo con la signora Liliana mentre lei si cambiava le scarpe quindi aveva le scarpe slacciate quelle scarpe normali per potersi mettere poi le scarpe da corsa per questo dico nessuno mette in dubbio che la signora non si ricordi ma bisogna poi verificare se effettivamente quel ricordo è associato a quel momento e non è molto semplice anzi è difficilissimo difficilissimo soprattutto in soggetti molto sensibili soggetti suggestionabili con i ragazzini e i bambini poi siamo dei livelli di difficoltà incredibili perché il bambino per sua indole tende a compiacere l'adulto soprattutto se gli riconosce un ruolo di responsabilità di autorità di riferimento cioè ci sono una serie di variabili veramente infinita in quello che c'è la ricostruzione del ricordo sei un pozzo di scienza sei una scoperta ora voglio vederti sul mosto di Firenze mamma mia lì è veramente una cosa non c'era mai no abbiamo visto stesso al convegno cinque relatori cinque teorie differenti cioè il sarnista il paccianista il compagno di merendista è così io però in realtà adorretta solo a due persone a Luca e a Giampaolo e a Cannella tre meno male è troppo bella è troppo bello dai sì 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 assolutamente ma sono comunque tutte teorie valide nel senso che se uno espone una teoria e si sposa una teoria in questo caso visto che ce ne sono decine ma lo fa con una uno studio supportando questa scelta con delle dei fatti dei riferimenti allora ha un senso perché tutto può essere plausibile in base a determinati discorsi io per esempio trovai molto importante in un convegno online che feci il discorso che aveva fatto il dottor Perugini che purtroppo è mancato recentemente che è il primo capo della squadra antimostro parliamo di una persona che fisicamente era lì che ha fatto le indagini quindi al di là del risultato al di là di ciò che ne pensasse effettivamente i fatti che lui riferisce quelli sono ci sono dei desconti oggettivi in quello che dice che poi giuridicamente sia stata presa una determinata strada che gli avvenimenti abbiano preso una determinata piega è un altro discorso la verità reale e la verità processuale sono due cose differenti molto diverse tra di loro spesso non dovrebbe essere così ma se tutto fosse dimostrabile non saremmo qui a parlare della signora Liliana non saremmo qui a parlare da 38 anni del mostro di Firenze più tutti gli anni prima né di nessun altro caso ti stavo ti stavo ti stavo redarguendo sul fatto hai detto 38 anni e poi ti sei ti sei bloccata 38 anni dall'ultimo più tutti gli altri prima sì 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 perché effettivamente no no questo è questo è allora in realtà in realtà scusami ti interrompo perché vorrei tornare un attimino vorrei tornare in pista riguardo a questa cosa se non ti dispiace allora io prima di continuarti di continuare a fare a far tu hai capito vai non vengono le parole non sono emozionato non mi prendete in giro perché non mi emoziono io non ho sono il cuore di pieno prima di continuare a farti parlare volevo farti una domanda allora e questa te la dovevi aspettare nel modo più assoluto perché insomma se no che ti invito a fare io voglio sapere secondo te che cosa è successo secondo te che non è la verità assoluta esattamente un parere personale capite esattamente lo devo mettere lo devo mettere mischietto quindi vorrei sapere Giulia secondo te che cosa è successo sugli ecco gli elementi che naturalmente tutti noi abbiamo allora io non credo che la signora Liliana volesse scappare con eh o andar via con il signor Sterpin perché il fatto che lei abbia lasciato i telefoni a casa è un chiaro segno che lei voleva comunque anche solo temporaneamente staccarsi da tutto per forza per forza compreso il fatto che credo mi sono fatta un'idea del fatto che il famoso appuntamento alla Wind fosse veramente una scusa per dire non potrò utilizzare il telefono per un periodo di tempo per alcune ore o altro ok fingendo un guasto qualsiasi scusa però io devo andare a un centro telefonia mi fa capire che il mio telefono ha un problema che voglio far qualche cosa voglio controllare ne voglio acquistare un altro qualsiasi però di fatto il fatto di andare a un centro telefonia presuppone il fatto che io non voglia o non possa utilizzare il telefono mi viene a pensare ed effettivamente lei poi non lo usa più il telefono anche perché lei si separa anche è un'altra cosa che secondo me è importantissima e non credo che nessuno ci abbia fatto caso lei il secondo telefono che lei utilizzava era quello della figlia del signor Sebastiano che purtroppo è mancata io questo non lo so questo è quello che si riferiva che è stato detto nel dibattito sempre con scrivo e dura tre ore e la signora Franca mi ha colpito moltissimo questo particolare se è vero che l'altro telefono era quello della figlia del signor Sebastiano e lei l'ha conservato questo telefono ha un valore affettivo certo per forza faccio un esempio mio padre è mancato qualche mese fa noi abbiamo tenuto il telefono perché è comunque una cosa sua che nessuno lo utilizza non fa niente però il telefono sta lì ok e finché andrà avanti la sim card sarà attiva ce l'avremo lì ok per dire è un particolare però ha un valore affettivo e lei lascia lì anche quello quindi lei si taglia quello che mi sembra di capire è che si taglia sia da una situazione che dall'altra come se si volesse allontanare da tutto forse per riflettere forse per decidere per qualsiasi motivo o perché semplicemente ha bisogno di fare una giornata completamente scollegata una giornata per sé concentrandosi su di sé ok poi sparisce qualcuno deve averla assolutamente totalmente completamente aiutata per forza in quelle tre settimane perché tre settimane sono tante e non è tre settimane eh vabbè però l'hanno trovata morta sì ma morta da due giorni non da tre settimane quindi per forza lei ha vissuto altre tre settimane da qualche parte e aiutata da qualcuno o in qualche posto per forza un'altra cosa non credo ma nella maniera più assoluta che lei non abbia parlato con nessuno della eh del legame con il signor Sterpin perché se questo legame effettivamente c'è cosa di cui non abbiamo alcun riscontro per il momento se non quello che è stato riferito da lui direttamente giusto? ma dice che ci sono cinque o sei cento messaggi ma insomma cinque o sei cento messaggi si fanno anche con gli amici eh non so ah io ho una collega che mi chiama almeno tre volte al giorno con cui ci scambiamo decine di messaggi anzi mi sto preoccupando perché sono due ore che non mi scrive chissà che sta facendo non mi scrivere perché sto facendo la trasmissione ma infatti per dire sì certo il fatto che questo questo legame di qualsiasi tipo esso sia per amor del cielo non sto dicendo che il signor Sterpin dice il falso eh per carità ma noi abbiamo una situazione riferita solo da uno dei due interessati che per il momento non è verificabile se fosse effettivamente che c'era una relazione tra di loro una donna che non parla di una cosa così importante di una decisione così importante con assolutamente nessuno è una cosa che non sta né in cielo né in terra perché la donna quando deve prendere una decisione così importante almeno sempre stando alla statistica sempre stando alla eh personologia femminile in generale almeno una persona con cui tu ti sei confrontata su questa cosa qui una persona con cui sei molto legata ci deve essere per forza e noi non sappiamo anche qui se qualora questa persona questa confidente o questo confidente ci sia noi non sappiamo se lui o lei non può riferire perché non vuole per ragioni istruttorie sempre nell'ottica dell'indagine o perché è la persona che l'ha aiutata in quelle tre settimane magari tutte e tre le cose però di sicuro lei è stata da qualche parte ed è stata aiutata ma assolutamente perché altrimenti tutti quei particolari che par di capire ci siano riguardo allo stato di rinvenimento e adesso lo so che uso del termine un po' un po' duri un po' asettici diciamo riguardo a questa signora però esatto cioè è anche per evitare di mettere giudizi personali perché quello che è importante il tutto questo discorso perché perché quello che è importante è che oltre a tutta l'idea che ci siamo fatti della situazione oltre a tutta l'idea che ci siamo fatti delle persone coinvolte in questa situazione a vario titolo la centralità della cosa deve andare sulla signora Liliana cioè per capire che cosa le è accaduto è importante si dice in criminologia la vittimologia cioè molto del lavoro che si fa per ricostruire un fatto si fa guardando la vittima di questo fatto di qualsiasi fatto si tratti perché gli è successa questa cosa quali sono i fattori della persona e della sua vita del suo carattere delle sue abitudini possono avere influito o contribuito a quello che le è capitato questo è importantissimo per quello dicevo la signora Liliana avrà pure avuto una persona con cui si confida al di là del fatto che fosse molto estroversa poco estroversa che avesse molti amici che avesse pochi amici che non avesse nessuno parliamo di mi pare di aver capito di persone molto attive socialmente ricordo anche poi incontrando al convegno incontrando il signor Sebastiano una persona comunque socievole garbata aperta insomma in modo per assoluto poi persone attive lo sport i viaggi cioè non erano persone che tendevano a stare chiuse dentro casa stare nella loro intimità vero che dall'avere una vita sociale attiva all'essere magari anche molto estroversa può passarci però mi risulta davvero difficile pensare che questa signora non avesse qualcuno a cui con cui confrontarsi anche semplicemente riguardo a una scelta così drastica che poteva essere lasciare una vita una casa e un marito posso che non ci fossero cioè non è come quei casi in cui una prende dalla sera alla mattina perché è maltrattata o perché c'è una situazione di disagio di difficoltà e tutto il resto cioè non stiamo parlando di una persona che subisce violenza psicologica economica fisica e tutto il resto e dalla sera alla mattina piglia e scappa bene c'è stata una piccola interruzione perché io devo accendere il scaldamento mi perdonerete ma tanto voi non me ne siete accorti allora durante durante la pausa io ho detto a Giulia che comunque la realtà di fatto è quella che la perizia è girata l'hanno vista in molti e quindi però molti l'hanno letta ma secondo il mio punto di vista io compreso non ci abbiamo capito tanto ecco quindi Giulia mi stava spiegando che alcune cose non tornavano però però anche lei è convinta che la perizia dica che due giorni prima è da ragione ok assolutamente anche perché io ti ho fatto un esempio lo chiedo a tutti è possibile che un medico legale di comprovata esperienza non riesca comunque a vedere se un corpo è un po' io ho detto al barrista se io faccio un caffè lo tengo la settimana sul bancone e poi ne faccio uno fresco tu lo vedi qual è quello fresco quello fatto la settimana e se è il tuo lavoro sì eh sì come fa un medico legale a vedere che poi esistono i processi di motivazione dico sempre le stesse cose e poi mi fate incazzare allora devo stare vai Giulia scusa allora qua c'è un altro ci sarebbe una parentesi lunghissima da aprire cerco di farla un po' breve eh a tutti piacciono ormai al di là dei programmi televisivi eh dedicati perché il crime va tantissimo eh a tutti piacciono i telefilm di la scienza la scienza si è sai qui si è sai la ris e via discorrendo sì sono scienze esatte ma ci sono alcune eh libertà che ci si prende per finzione scenica il famoso orario della morte ora tu guardi un film o un telefilm e quello il medico legale arriva tutto carino e dice ah è morto tra mezzanotte e mezzanotte e mezza del giorno ma chi no puoi dire una cosa del genere solo se te c'hai un filmato una foto che dimostra con orario registrato tracciato che tizio è stato colpito dal colpo d'arma da fuoco in vento in quel momento lì e poi parliamone perché bisognerebbe calcolare quanto tempo ci ha messo a morire per lo shock emorragico per questo quell'altro motivo giusto benissimo come il discorso del morto sotto al treno quello per esempio è il più facile da stabilire perché se il treno ti colpisce possibilità di sopravvivenza lì la morte è pressoché istantanea anche lì però abbiamo dipende se un treno in Italia sicuramente fa ritardo esattamente comunque al di là dello scherzo qui la battuta ci voleva sicuramente al di là dello scherzo ci sono dei parametri entro cui si possono stabilire gli orari della morte con una ragionevole approssimazione però abbiamo i famosi tre criteri Algor Livor e Rigor che sono le condizioni si chiamano fenomeni tanatologici sono le condizioni in cui viene rinvenuto un corpo che riguardano la temperatura la rigidità delle membra e le macchie ipostatiche che praticamente non sono altro che il sangue che si deposita sulle zone dei clivi del corpo cioè quelle verso terra cioè che seguono la gravità è come il discorso la bottiglia si è appoggiata sul tavolo per esempio che c'ha l'acqua se la giro di così quella sempre verso l'orizzontale va no? va sempre verso il sotto non è che mi ritrovo l'acqua qua di sopra giusto? a meno che non la capovolgo ma comunque va in direzione della gravità lo stesso discorso funziona con il sangue quando il circolo la circolazione smette ok? quindi lì iniziano quando il corpo muore è quindi non c'è attività cardiaca non c'è circolo di sangue non c'è attività cerebrale e cominciano questi tre famosi fenomeni tanatologici ci sono dei parametri oggettivi che riguardano la migrazione delle macchie ipostatiche la temperatura quando cala rispetto alla temperatura standard di un corpo che è indicata intorno al 36 36 qualche cosa ma varia da individuo individuo io posso averci 36 e 4 te ci puoi avere 35 e 8 quell'altro ci può avere 36 e 8 per dire è estremamente soggettivo varia in base a età condizioni di salute dimensioni peso eccetera 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 ci sono tantissime le variabili allo stesso modo questi fattori tanatologici cambiano stando sempre entro certi parametri che non sto a spiegare perché non sono un medico legale non è il mio mestiere stanno entro certi parametri di massima ma possono variare tramite la temperatura in cui viene dell'ambiente in cui viene rinvenuto un cadavere le condizioni meteo tasso di umidità o tasso di secchezza eccetera 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 la stagione questo perché in inverno un corpo si decompone più lentamente in estate si decompone più velocemente perché quando ti scordi io faccio sempre un esempio molto stupido quando devo tenere magari qualche lezione ti scordi di scongelare il petto di pollo per la cena se lo fai d'inverno saluti non si scongelerà mai se lo fai d'estate che fuori c'è 38 gradi tu levi la fettina alle 5 e mezzo del pomeriggio alle 8 bella scongelata la fai giusto? è la stessa cosa e stiamo parlando dello stesso petto di pollo dello stesso peso nello stesso ambiente dentro la cucina eppure eppure devi accendere il riscaldamento perché fa freddo ci mette una vita a scongelare la fettina ed è inverno piuttosto che ci sono 38 gradi la fettina si scongela subito la stessa cosa influisce sul rinvenimento di un cadavere però per fortuna ci sono certi parametri di massima che sono abbastanza attendibili quindi l'approssimazione dell'orario della morte o dell'epoca della morte si può fare con si chiama ragionevole approssimazione e è abbastanza attendibile se io trovo un corpo nell'immediatezza nella vicinanza della morte posso stabilire un orario con un'approssimazione di in media 4-6 ore significa che posso indicare un intervallo di tempo ampio 4-6 ore in cui potrebbe essere avvenuto l'evento morte potrebbe si usa sempre il condizionale perché io non ho il famoso video la famosa foto di cui sopra del momento della morte ok perfetto con i giorni funziona allo stesso modo sempre guardando gli intervalli indicati dai tre fattori stando in un intervallo intorno a il momento in cui dopo qualche giorno cominciano a comparire gli animali come si chiama necrofagi che sono i famosi vermi le famose mosche e via discorrendo e allora lì si utilizzerà lo stadio di evoluzione dei vermi o degli insetti che trovano adulti per determinare sempre con approssimazione l'orario qui abbiamo una relazione autoptica come tu mi dicevi che ormai pare che sia abbastanza di dominio pubblico che indicherebbe che sono passati circa due giorni significa più o meno due giorni o un poco più o leggermente meno e questo è un dato certo certo sempre con quel tot di ore di oscillazione di approssimazione ma sono due giorni fine cosa che sicuramente sarà stata anche supportata da delle analisi cliniche da eventuale contenuto dello stomaco dell'intestino che servono anche quelli per capire che ok anche l'orario se aveva mangiato se non aveva mangiato in prossimità della morte sono tutti fattori che stabilisce il medico legale e fin qui ci siamo ci sono alcune cose che possono essere possono lasciare perplessi possono lasciare perplessi allora di tutte le scienze la scienza la medicina legale è una delle più precise perché in base a questi fattori e a quello che emerge in sede autoptica con una discreta approssimazione una discreta precisione si può stabilire la causa della morte di una persona ok anche qua sfatiamo un altro mito si legge ovunque è morto per arresto cardocircolatorio grazie qualsiasi morte sopravviene per arresto cardocircolatorio perché tu mi insegni che se il cuore si ferma il circolo si ferma per forza bisogna vedere quali sono le cause che hanno portato all'arresto cardocircolatorio che è diverso l'autopsia serve per stabilire queste cause qui pare che la causa presunta sia una sfissia significa che non c'è più possibilità di ossigenazione del cervello del sangue e via discorrendo la faccio molto semplice sempre con termini perché non sono un medico quindi mancata ossigenazione tutto il resto il circolo si ferma il cuore non pompa più sangue ossigenato la persona muore ok poi il sacchetto non il sacchetto la letteratura non la letteratura è sicuro che è stato il sacchetto il cordino lasso il cordino stretto non siamo dei medici certezze sono due punti epoca della morte all'incirca due giorni che possono essere due giorni e mezzo o un giorno virgola otto virgola nove quello che è è una cosa certa e questa asfissia perché pare che non ci sia nessun segno né esterno né interno di opera terzi questo per quello che riguarda la morte non come è stata trovata potrebbe essere benissimo che è morta per queste cause mediche cliniche tutto il resto e qualcuno potrebbe essere intervenuto in un secondo momento con la questione dei sacchi però anche lì anche lì in cui è stata con cui è stata coperta intendo eh ok però anche lì ah impossibile ci sarebbero state le impronte non è vero anche lì per tutta una serie di mille milioni di variabili prima fra tutti ha piovuto due giorni prima dell'invenimento ok secondo sempre perché tutti purtroppo guardiamo si e sai sappiamo che bisogna mettersi i guantini se non si vuole io non lo guardo mai guardato è utile eh però si fa vedere si fa vedere anche lì in modo romanzato la realtà delle analisi scientifiche negli Stati Uniti che sono un'altra parrocchia rispetto a queste per tutta una serie di motivi perché loro tecnologicamente sono più avanti perché hanno tutta una serie di banche dati innumerevoli per qualsiasi merceologia qualsiasi sostanza qualsiasi cosa che qui non esistono non perché siamo più indietro ma perché semplicemente non ci sono non sono previste non sono state create perché magari domani arriva uno di questi geni che fanno le start up queste cose che ci piacciono tanto e si inventa una banca dati per raccogliere tutti i materiali di produzione delle bottiglie di plastica cioè che raccoglie tutti i campioni li cataloga chimicamente e dice ah la marca XY dell'acqua fa un come accidente si chiama questa plastica qui con queste percentuali di sostanza X sostanza Y ok nessuno ce lo vieta ma per il momento non esistono in America ci sono per qualsiasi cosa qualsiasi le vernici delle auto i produttori di tessuti il come si chiama il materiale con cui sono fatti i nastri adesivi ce ne sono numeri magari non sono completi al 100% ma ce ne sono tante perché i produttori stessi pare che alimentino almeno ho letto qua e là su articoli scientifici e via discorrendo alimentano i produttori stessi sono invitati ad alimentare queste banche dati quindi poi mi correggerà magari qualcuno che è più saputo di me che ha avuto a che fare con gli Stati Uniti o ne sa di più però io ho letto alcuni articoli in cui venivano indicate queste cose articoli scientifici presumo che sia effettivamente così poi DNA anche lì è un'altra non leggenda metropolitana ma è un altro capitolo ci sono tutta una serie di false non false credenze di false certezze ci sono delle certezze scientifiche va bene ma non sono quelle cui siamo abituati e che continuiamo a sentire in televisione sui giornali e tutto il resto è un pochino diverso si sa quando si è degli adetti a lavori o quando si approfondisce sì è vero è possibile ricavare del DNA in alcuni casi previ a certe accortezze con alcune condizioni di rinvenimento tutto il resto ma se noi non abbiamo un campione di riscontro con cui confrontare questo DNA possiamo soltanto ottenere un profilo genetico giusto? ma non possiamo sapere chi appartiene se io non ho un campione con cui confrontarlo lo stesso identico discorso vale per le impronte ok? fermo restando che l'unica cosa che identifica con certezza una persona sono le impronte digitali che fino ad ora perché non è stato smentito sono l'unica cosa che non è paragonabile con quella di nessun altro individuo perché questo è quello la sioma per il momento è questo perché ancora non è stato smentito significa che non sono mai state trovate e dovrebbe rimanere così salvo due impronte digitali identiche appartenenti a due individui diversi ok? però sempre il nostro amico CSI ci insegna che se io voglio fare qualcosa per il quale non voglio essere a cui non voglio essere ricollegato mi metto i guanti fine e non servono i guanti necessariamente i guanti di lattice sterile quello e quell'altro se io devo infilare un sacco o aprire una maniglia scassinare una serratura o altro mi metto un paio di guanti di quelli di lana qualsiasi o di quelli di gomma per lavare i piatti e le vie impronte non si vedono tra le altre cose quelli lattici vanno bene sì quelli lattici vanno bene se non ci sto sudando da un'ora perché se ci sto sudando da un'ora l'è sudato viene fuori ok vedi non so se ti è mai capitato non so se ti è mai capitato di vedere alcuni filmati di non so ricerca sulla scena del crimine eccetera i guanti si cambiano spesso per questo motivo questo non ci avevo fatto caso la verità è questa si cambiano spesso sia per un discorso di contaminazione prima cosa perché io non posso toccare due volte con il guanto con cui ho preso questa prova toccare subito dopo quest'altra cosa qui con lo stesso guanto senza cambiarlo perché posso contaminare giusto ma anche per quel discorso che l'è sudato tende a ok e purtroppo noi le impronte le lasciamo ovunque continuamente su qualsiasi superficie quando la tocchiamo poi possono essere rilevabili o non rilevabili perché non è che su tutte le superfici possiamo trovare delle impronte leggibili anche qua c'è fior di letteratura ci sono basta digitare su google come rilevare le impronte su la stoffa e ti dice sì è possibile no non è possibile si usa questa 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 tecnica ok quindi sicuramente avranno provato a cercare le impronte su questi benedetti sacchi ma primo non lo sappiamo se l'hanno fatto o se non l'hanno fatto perché perché noi non abbiamo gli atti noi non abbiamo gli atti del sopralluogo dell'intervento non abbiamo gli atti di quello che eventualmente sia stato deciso di analizzare poi il laboratorio di fare degli ulteriori accertamenti che non si fanno sul posto eccetera 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 ok questo è quello che a me sembra strano dopo tutta questa tirata che ho fatto mi sembra strano che è un po' incongruente col discorso del eventuale gesto auto lesionistico della signora Liliana è questa cosa delle buste perché credo secondo me c'è un sacco di gente che ci ha pure provato a mettersi dentro i sacchi sì sì l'hanno scritto sì sì immaginavo no no ma l'hanno anche scritto mi sembra un po' mi sembra una cosa un po' complicatina questo sì la vedo una cosa un po' complicatina soprattutto senza in realtà ci ho provato anch'io ecco non avevo dubbi ci sei riuscito giusto per capire no vedi è quello che a me sembra molto strano sinceramente molto molto strano devo dire la verità non ho usato devo provare ancora con i sacchi extra forti quelli condominiali gli altri si rompono eh si rompono però allora mi par di capire da quello che si è letto è che fossero non quelli condominiali ma quelli di media misura i sacchi mi sembra di sì perché io in un sacco condominiale io ci entro fino a qua poi dici di me no ma perché mi è capitato ancora di fare quando sei ragazzo cioè io ho questa statura quando ho 16-17 anni statura più o meno non sono più cresciuta sai le cose i campi estivi quelle cose lì si faceva la corsa con i sacchi no la corsa con i sacchi la fai con il sacco con la spazzatura condominiale che è più robusto un po' più spesso di quello da pattumiera ed è molto più alto io ci entro fino a qua in quel sacco lì se mi stendo per bene comunque ci entro fino sotto le coste quindi di che stiamo parlando a me quelli non mi sembrano sacchi condominiali da quello che è stato descritto ed è stato poi detto per quello che dico mi sembra un po' un po' incongruente cioè è come se volesse la sensazione che mi ha dato è una cosa soggettiva per amor del cielo si volesse preservare nonostante il gesto autoconservativo che è una cosa che cozza un pochino capito? perché cozza un pochino è come se uno che si vuole farla finita si butta dal balcone ma si copre non lo so mi sembra un pochino incongruente questo ecco un pochino incongruente e poi il fatto che di fatto non c'è nulla pare che non ci sia nulla che riconduce all'opera terzi quello purtroppo pare che sia così opera terzi ripeto nel discorso del decesso nel discorso della eventuale copertura quello è un altro discorso ma io penso che intanto non è il medico legale che lo deve stabilire perché il medico legale legge quello che trova non è che interpreta non è che interpreta i motivi o le procedure o altro non sono compito suo cioè ognuno deve fare il suo in questo caso almeno a me criminologicamente e criminogeneticamente mi sembra un pochino cozzare la cosa ecco quello sì mi ha lasciato un pochino perplesso sto fatto un po' tanto che lei si sia voluta preservare anche magari dagli attacchi degli animali piuttosto dagli attacchi degli animali se non ti vuoi preservare dagli attacchi degli animali quella struttura lì quella zona lì dove lei è stata trovata c'è un complesso ospedaliero non mi ricordo che tipo è psichiatrico che è molto grande ho visto anche dalla zona di Maps ci sono diversi padiglioni probabilmente ce n'era qualcuno in disuso poteva tranquillamente fare questo gesto dentro uno di questi luoghi volendo credo perché comunque in un bosco così poi c'è gente che in giro parlava di è zona di cinghiali quello e quell'altro sarebbe comunque stata attaccata da qualche animale attenzione Giulia attenzione emana comunque un odore che ai cinghiali dannoia assolutamente che ai cinghiali dannoia e quindi scusate non più in scatole a quest'ora qui sono tutti i centralini che per qualche giorno il corpo umano emana degli odori che danno ai cinghiali e ai cinghiali nemmeno si si avvicinano poi quando cominciano i processi di putrefazione allora si i cinghiali non sentono più l'odore umano e quindi si avvicinano più e possono anche diventare il corpo i sacri servono a ben poco dentro tra noi ma basta l'odore lì loro farfugliano a volte trovano delle buche fatte dai cinghiali perché proprio scavano scavano quindi perché sentono l'odore sotto terra però anche qui è una cosa che sanno gli addetti ai lavori io prima che me lo raccontassi tu non lo sapevo come si comporta un cinghiale capito ma io lo so perché e dubito che la signora Liliana lo sapesse questo che lo so francamente però no no ma infatti non io non non do per scuola anche tu lo so benissimo non dovrebbe dare scontato che quello sapesse una cosa piuttosto che un'altra ci mancherebbe è uno dei motivi sui quali sui quali ho parlato con Valerio Schivo stamattina infatti lui mi diceva poteva essere che si sia coperta però di preservarsi dal corpo ma lì ma c'è questa questa cosa qua la le ipostasi si chiamano giusto sarebbero formate se il corpo fosse deceduto da una parte fosse stato trasportato fino lì anche semplicemente anche semplicemente se fosse stato cambiato di posizione dopo un tot di ore dal momento della morte solo cambiato di posizione si intende che dal braccio così io lo sposto così ah ok si formano lo stesso e si sono fissate in una certa posizione qualcuno mi manipola prima che entri in vigore la fissità cioè la rigidità io posso spostarlo un braccio magari faccio della fatica ma l'ipostasi se si è fissata rimane come era quando io sono morta se è fissata così eh quindi sì è la prima cosa mi viene in mente il bandito Giuliano quando lo girarono che l'ipostasi perché i buchi erano al contrario i fori dell'arma da fuoco però si vedeva palesemente che era stato girato perché le ipostasi vennero trovate al contrario cioè adesso non mi ricordo se fosse stato trovato prono o supino però era morto ipotizziamo supino le ipostasi si erano fissate dietro viene trovato prono con le ipostasi qua è ovvio che è stato spostato lo sai lo sai sì ma sì ora ti vedrai passi purtroppo soffro del deficit dell'attenzione però le devo dire le cose se non mi scordo sei sei una delle poche persone giudo che conosce il bandito Giuliano no impossibile come si fa non sapeva storia è possibile eppure c'è gente che io ho chiesto gli universitari ai quali ho chiesto sapete chi è Falcone Borsolino e non lo sanno storia che dovrebbe essere raccontata a scuola all'elementare all'elementare non lo sanno quindi quando hai parlato del bandito Giuliano sono arrivato sorpreso perché se ti dicessi chi è impastato presumo che tu sappia chi sia beh assolutamente ma lo sai che quando te sei dell'ottanta 82 82 sì che insomma no no ti assicuro ci sono persone che non non sanno assolutamente un'altra chissi una ma sai Falcone Borsolino chi come chi stai scherzando no no non ho idea di chi siano potrei avere un mancamento ma vabbè vabbè tutti 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 i giudici che hanno diciamo creato le leggi antimafia Caponnetto insomma Pio Latorre insomma tante persone che comunque hanno vabbè tu comunque hai un po' di te ora non diciamo un po' sì ma in generale ma chiunque abbia che fare con per ragioni professionali o di diletto anche con queste questi tipi di argomenti magari conosci la storia un pochino di più è anche vero che il bandito Giuliano stiamo parlando di veramente 60 erotti 70 anni fa Giulia ma se conosci Giuliano conosci anche quelli successivi sai chi è Boris Giuliano no? sì 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 è il capo della polizia a Palermo è Boris Giuliano è che sta ammazzato dalle Luca Magarella Pio Latorre insomma ce ne sono un po' che dovrebbero diciamo che sono sono avvenimenti che hanno c'è un filologico in tutta questa cosa che sono in qualche modo uno legato all'altro ecco cioè dal discorso mafia non mafia c'è lì bisognerebbe aprire veramente un capitolo però cioè quello ho fatto quell'esempio perché è un esempio tra gli addetti ai lavori molto conosciuto per la storia del discorso delle iposte certo quello è proprio un caso eclatante di spostamento ma proprio ma clamoroso una cosa clamorosa sono rimasto sorpreso perché ci sono persone che soprattutto tu vedi un po' più giovane rispetto a me che non tu hai 10 anni 82 hai 9 anni meno di me insomma quindi ora ti dico semia coetanea ma insomma comunque più o meno ecco comincia a avere una scelta senza offesa no no ci sono cose che uno tende a ricordare più facilmente anche se sono un po' più lontane nel tempo rispetto a un ragazzo di 20 anni di 22 no se tu gli chiedi chi è Falcone Borserino cosa già gravissima secondo me chi è giudice Livatino ti dicono chi è impastato non hanno idea di che si eppure fa parte della storia e dovrebbe essere insegnato a scuola io lo ribadisco però vabbè grandi eroi come Peppino Impastato pochi ce ne saranno vabbè vabbè continuiamo continuiamo allora stavo dicendo quindi il corpo non è stato assolutamente spostato no perché sennò si sarebbe visto quindi la signora possiamo dire con assoluta tranquillità è deciduta in quel luogo esatto nel luogo dove è stata trovata esatto due giorni prima quindi gli altri giorni dove è andata esatto questo è il grosso della questione è dove è andata in quei giorni dove è stata dove è stata perché fisicamente doveva essere in un altro luogo anche perché poi nei giorni precedenti pioveva gli abiti pare che fossero puliti in ordine senza macchie solo un poco umidi per via degli ultimi due giorni sotto all'acqua per quello che per forza deve esserci qualcuno che le ha dato una mano o che sa dove fosse non c'è spiegazione qualcuno non necessariamente un qualcuno che l'ha aiutata ma magari non so un gestore di una struttura ricettiva mi viene a pensare lì siamo in complicità però nì nì è anche vero che lei era senza documenti quindi è più difficile al giorno d'oggi nessuno ti prende senza documenti se non scusa una domanda io te la posso fare ma se io vado a giro e mi fermano con la fotocopia dei documenti è valida o no? no la fotocopia è una fotocopia possono chiederti come per il discorso della patente di cui ti dicevo prima di esibire il documento autentico ok quindi possono non multarmi però mi possono chiedere di portare la patente il documento fotocopiato l'originale di portarlo in questura perché la fotocopia non è un documento quindi non è valido te l'ho chiesto semplicemente perché perché dicono che magari lei non aveva i documenti ma l'aveva fatto le fotocopie green pass poteva essere fotocopiato questo sì sono certo i documenti non avevo la certezza ma adesso so per certo che documenti di sicuro non possono essere utilizzati per fini ufficiali tipo registrarsi in un albergo la fotocopia perché è lo stesso discorso di quando provi ad andare c'è stato qualche caso di qualche genio che provava a prendere un aereo ok prenotando il il biglietto tu hai il biglietto associato al documento parti cerchi di partire con la fotocopia del documento non parti fine te devi avere il documento fisico appresso basta e capitò una mia amica anni fa che cercava aveva la carta di identità in rinnovo andò con l'attestato del comune con la foto incollata ok quindi la coppia che ti rilasciano in attesa del rilascio del documento rilasciata dal la compagnia aerea non l'ha fatta partire ok ma credo sia anche giusto insomma se la legge è quella e lo stesso vale teoricamente questo viene è previsto per le strutture ricettive per questo io dico qualcuno che lei conosceva o che ha avuto modo di conoscere l'aiutata per forza perché tre settimane sono tante non sono due giorni sono tre settimane è tante è un periodo lunghissimo però Giulia devi anche calcolare che ora noi abbiamo fatto il discorso dall'inizio nel senso che magari ora ci sono per quanto ne so io ho contato quattro testimonianze magari ce ne possono essere anche di più che magari la procura non ha nominato non ha reso pubblica magari ce ne sono di più magari in questo lasso di tempo mentre noi chi sta indagando sta riuscendo a ricostruire i movimenti magari ha trovato noi questo non lo possiamo sapere o non lo sapremo fino a quando non verrà tutto concluso e poi bisognerà vedere l'esito quale sarà se ci sarà qualche ipotesi di reato confermata se verrà qualcuno verrà indagato o se verranno chiuse le indagini con la conferma della tesi del gesto autolesionistico le variabili sono tantissime ma lo sapremo fra cinque mesi probabilmente ma se dovessero chiudere in realtà adesso c'è il fascicolo aperto come sequestro di persona ok ancora aperto strano visto che è stato ritrovato il corpo ora te mi dirai sì però magari qualcuno l'ha sequestrato quindi per loro è ancora con un sequestro potrebbe essere però durante le indagini se durante le indagini si configurano nuove ipotesi di reato nessuno vieta che venga rubricato in un'altra maniera ok che può non essere reso pubblico diventi sì per ragioni investigative per tutto gli adetti ai lavori lo sanno noi non lo sappiamo ma per come dire magari può essere trasformato in in omicidio come come reato e noi non possiamo andare a sapere tutto può essere allora io vorrei sapere una cosa no perché allora tanto non dico non dico qualche informazione è uscita alla parte che De Nicolo l'unica dichiarazione che ha fatto al pubblico è stato una marea di mischerate ora io l'ho detto così ma so è meno male che mi ha fatto il sogno ecco però la perizia è uscita ecco chi è che fa uscita la perizia oh lì 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 qua quelli sono non lo voglio neanche sapere non lo voglio neanche sapere però qualcuno qualcuno secondo me vabbè non lo dico non dovrebbe capitare almeno che io sappia nella mia modesta esperienza non dovrebbe capitare però anche lì ci possono essere mille milioni di variabili ma tante 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 tantissime Giulia una domanda a tu a che ore devi andare via perché noi io ho un appuntamento alle 18 quindi mi sa che ci dobbiamo salutare sono due ore sono due ore io avrei un monte di domande a farti ancora però vabbè dai la prossima volta magari ci possiamo confrontare anche con gli altri che sono intervenuti sì ma magari possiamo fare eventualmente possiamo fare una live direttamente insomma nel senso in maniera tale che il pubblico possa magari fare domande al vivo e farle direttamente a voi o a te ah sì anche perché volevo fare io non so però il tuo tempo a disposizione sulle tempisti so che lavori so facendo la famiglia mi piacerebbe affrontare anche il discorso del mostro di Firenze perché voi non lo sapete ma lei è molto brava a fare Barbara Locci per cui ce l'ha ancora la registrazione lo sai quanti anni sono passati secondo me è stato otto forse di più sei l'unica persona che ho su Facebook che non ho mai cancellato meno male la vedo come una cosa positiva sì 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 no forse te e un altro mio amico che non è quello che faceva le riprese al convegno poi gli altri lo sono cancellati lo rimessi Alberto va bene Giulia allora che ti devo dire mi ricordo che Giulia è criminologa quindi ha risposto in qualità di criminologa e niente io che ti devo dire ti ringrazio infinitamente ti avrei ascoltato scusami per per le per le interruzioni ma insomma purtroppo erano dovuti ora si sta un po' meglio ma stavo ghiacciando io volevo fare il super uomo ma con nove gradi in casa non è umanamente possibile no quindi ti chiedo scusa chiedi scusa anche lo possiamo dire l'altro l'ho conosciuto chiedi scusa anche Antonio per le due ore che ti ho portato via va bene chiedi scusa e niente io vi saluto ti ringrazio infinitamente per aver partecipato se rimani là un attimo poi ti devo chiedere due cose e poi ti mando via subito non ti preoccupare niente ci vediamo alla prossima buonanotte grazie ciao ciao buonasera buonanotte buongiorno dipende a che ora guarderete questo video ciao ciao ciao